Partiamo ovviamente da un dato che è abbastanza noto, che è quello della presenza massiccia di turisti che pernottano nel territorio della terraferma e a Mestre in particolare. Parliamo di 3 milioni di presenze, parliamo di 1 milione e 400 mila arrivi, quindi parliamo di numeri assolutamente importanti. Però bisogna che ci rendiamo conto che il turista che soggiorna a Mestre deve avere di fronte una città ospitale. Ecco perché Confesercenti propone l'attuazione di un progetto che renda Mestre più ospitale, più accessibile al turista sotto molteplici aspetti. Chi si muove nella città, chi utilizza la città, molto spesso si sente rifiutato da questa città, che è priva di informazioni, che è sprovvista di quelle indicazioni necessarie, che non pensa alla persona più debole, che in questo caso è il turista, che non ha nessuna conoscenza predefinita di quello che troverà. E che, come si diceva, ogni volta che vai in un posto nuovo è come se facessi una doccia fredda, cioè riceve uno shock. Ora, se noi riusciamo a rendere meno impattante questo shock e a rendere più ospitale e accogliente la città per il suo sistema di servizi, automaticamente questo sistema di servizi sarà più accogliente e ospitale anche per i cittadini. Per fare questo però c'è bisogno della collaborazione da parte di tutti, di cui un messaggio anche per il sindaco Brugnaro. C'è bisogno che pubblico e privato comincino a ragionare insieme, trovano degli strumenti di gestione nuovi, innovativi, che consentano di mettere in sinergia le risorse rispettive. Chiaramente la realizzazione forse è più complessa di quella che il sindaco si aspetta o si aspettava, essendo un po' fuori dalla vita politica e amministrativa. avrà visto in questi primi cento giorni che la macchina burocratica e che i problemi sono un po' più complessi di quelli che uno può trovare all'interno di un'azienda privata. Ma sono anche convinto che se decide di trovare la collaborazione con le parti della città che possono dargli una mano, Mestre ha delle grandi opportunità che il sindaco è disponibile, almeno a parole, è disponibile a raccogliere.